Al termine della celebrazione del Concistoro, Papa Francesco e i 16 nuovi cardinali che hanno preso parte della celebrazione sono saliti su due pulmini che li hanno portati al monastero Mater Ecclesie in Vaticano per incontrare Benedetto XVI. Nella cappella del monastero Francesco ha abbracciato affettosamente il Papa Emerito, seguito dai neoporporati, dal venezuelano Porras Cardoso, arcivescovo di Merida, fino all'arcivescovo di Chicago, Cupisch. Un incontro fraterno caratterizzato da gioia e semplicità e concluso con la preghiera del Padre Nostro e la benedizione di Benedetto XVI e di Papa Francesco.